Alcune delle foto che trattiamo in questo video sono così incredibili che dovrai vederle tu stesso per decidere. Dal mostro di Loch Ness ai Templi di Edfu, queste foto hanno spaventato il mondo intero. Ecco un elenco di dieci cose che gli scienziati non possono spiegare. Numero 1. La misteriosa sfera di Bates. Il 27 marzo 1974. La famiglia Bates vide un piccolo incendio in un cespuglio vicino alla loro casa sulla Ford George Island di Jacksonville. Il figlio maggiore, Terry, scoprì qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita della famiglia. Una strana sfera metallica delle dimensioni di una palla da bowling. Da studente di medicina, Terry lo portò a casa come souvenir a causa del suo aspetto insolito. La famiglia non ci ha pensato molto finché Terry non ha iniziato a suonare la chitarra vicino a lei. Fu allora che accadde qualcosa di strano. La palla cominciò a ronzare e subito dopo mostrò altre strane caratteristiche, come rotolare da sola, cambiare direzione e fermarsi bruscamente. A volte la sfera vibra ed emette un suono acuto che fa bagliare i cani e fa sì che le persone si coprano le orecchie. Questa palla, che porta nomi come Best Sfere, Misterio Sfere o Fantastic Ball, iniziò a guadagnare popolarità. Il conduttore di un programma radiofonico sul paranormale locale ha convalidato le affermazioni della famiglia Best, secondo cui la sfera si muoveva e si comportava in modo strano. Credeva che questa sfera fosse di origine extraterrestre e che dovesse essere stata progettata da una civiltà, sconosciuta per uno scopo sconosciuto. Numero 2. Scomparsa del volo MH370 Il volo Malaysia Airlines 370 era un volo passeggeri internazionale scomparso dai radar l'8 marzo 2014. Volava da Kuala Lumpur a Pechino, in Cina, e nessuno sa veramente cosa gli sia successo. Solo le immagini radar che mostrano la rotta dell'aereo offrono indizi su cosa sarebbe potuto accadere in quel momento. La scomparsa del volo 370 è stato l'incidente più mortale che ha coinvolto un Boeing 777 e, purtroppo, si presume che tutti a bordo siano morti. Nessuno conosce le cause ufficiali dell'incidente aereo, ma una possibile spiegazione è che la decompressione ad alta quota abbia causato un guasto allo strumento. L'equipaggio di volo ha contattato il controllo del traffico aereo per l'ultima volta circa 38 minuti dopo il decollo, mentre l'aereo stava sorvolando il mar cinese meridionale. Un radar di sorveglianza secondario ha visto l'aereo scomparire dallo schermo pochi minuti dopo, e il motivo della scomparsa non è mai stato chiarito. L'esercito malese è riuscito a rintracciare l'aereo per un'altra ora dopo che era scomparso dai radar dell'aeroporto, ma ha visto l'aereo deviare dalla sua rotta verso nord-ovest verso l'isola di Penang. Uno dei più costosi nella storia dell'aviazione rimane ancora oggi estremamente sconcertante. Numero 3. Makupiku Molti appassionati di viaggi sono stati incoraggiati a seguire il cammino inca grazie a foto come queste, che hanno ispirato altre reazioni incredibili e sorprendenti. Immerso nel cuore delle idilliache montagne delle Ande in Sud America, Makupiku è il sito inca più spettacolare e oggetto di numerosi dibattiti archeologici. È ancora più affascinante per storici e avventurieri perché non è documentato nelle antiche cronache dei conquistadores spagnoli, sebbene siano menzionati molti altri siti inca. Non è mai Makupiku ancora più strano è il mistero della città nascosta che alcuni chiamano la mitica cugina di Makupiku, situata a Peititi, in Peru. Alcuni hanno menzionato la Peititi nascosta con nomi come la città perduta dell'oro, e il Dorado ha anche una capitale segreta nascosta dell'impero inca. Inoltre, ci sono voci secondo cui potrebbe essere stata una capitale segreta nascosta dell'impero inca con una storia intrigante e misteriosa. D'altra parte, alcune menti curiose hanno considerato la possibilità che Makupiku, oltre ad essere un importante sito archeologico, indichi le vestigia di civiltà aliene che avrebbero potuto abitare la Terra in passato, il che aggiunge un elemento di intrigo e speculazione. Punto alla sua storia. Non ti piacerebbe avere l'opportunità di esplorare le maestose montagne d'alta quota del Peru con le loro enigmatiche città nascoste e scoprire di più sull'emozionante storia dietro di loro. Numero 4. Il bulbo di Dendera. Parlando dell'Egitto, le fotografie di questo strano oggetto hanno causato il panico nel mondo scientifico e da allora si fatica a scoprire la verità. Le foto sono state scattate al tempio di Ator Adendra, in Egitto, e i segni sul muro della tomba sono chiamati rilievi. Alcune teorie precedenti suggerivano che questi rilievi rappresentassero l'antica tecnologia egiziana. Ciò si basava su confronti con dispositivi simili come lampade o tubi. Tuttavia, recenti ricerche hanno sfidato questa interpretazione e hanno proposto nuove ipotesi sul significato di questi rilievi. Ad esempio, alcuni studi suggeriscono che potrebbero essere rappresentazioni simboliche di concetti astratti o messaggi in codice. Queste nuove teorie hanno generato dibattito in Egittologia e hanno aperto nuove porte per l'indagine sulla vera, funzione di questi rilievi. Ciò ha portato ad ampliare la teoria secondo cui i personaggi delle raffigurazioni potrebbero contenere dispositivi di illuminazione, come lampade o lampadine. Ecco perché l'immagine in questa foto è chiamata o lampadina di Dendra. I teorici marginali usarono questa immagine a forma di lampadina per spiegare che gli antichi egizi avrebbero potuto essere la prima di scoprire l'elettricità, che sarebbe stata utile per illuminare queste tombe buie. Tuttavia, nelle tombe egiziane non sono state trovate lampadine o segni di lavori elettrici. Pensi che sia possibile che la luce sia stata inventata nell'antichità? Numero 5. Incidente al passo d'Ayatlov L'incidente al passo d'Ayatlov è uno degli eventi più misteriosi della storia moderna. Nel 1959, nove turisti russi esperti morirono in circostanze estremamente misteriose nei Monti Urali. Ad aumentare il mistero ci sono le fotografie trovate nelle fotocamere dei membri della spedizione. Uno di questi mostra una figura sfocata al confine della foresta, spesso chiamata la foto dello Yeti. Un'altra foto inquietante, scattata all'ultima notte della spedizione, cattura una luce o una sfera misteriosa contro il cielo scuro. Sebbene l'incidente in sé rimanga in gran parte inspiegabile, le foto inquietanti gli conferiscono una vivida intensità, dando origine a teorie su esperimenti militari segreti, a attacchi di popolazioni indigene o entità soprannaturali. Numero 6. Cerchi di Fate Nelle aride pianure del deserto del Namibi in Namibia, scienziati e turisti ammirano un insolito fenomeno naturale noto come cerchi fatati. Sono costituiti da appezzamenti rotondi di terreno arido circondati da erba bassa, che formano un disegno a nido d'ape se visti dall'alto. Il diametro di questi cerchi varia da pochi metri a diverse decine di metri e si trovano in vaste aree della Namibia. I miti locali attribuiscono questi cerchi all'intervento divino o alle orme di esseri soprannaturali, ma le versioni scientifiche spiegano la loro comparsa con varie cause, dalle termiti e dalla competizione tra le piante alle fughe di gas e persino alla radioattività. Nonostante tutte queste teorie, la ragione definitiva della sua comparsa rimane sconosciuta. I cerchi magici della Namibia continuano a suscitare dibattito scientifico e curiosità del pubblico, illustrando gli incantevoli misteri che la natura spesso nasconde a occhi indiscreti. Nel 1911 fu scattata una fotografia che in seguito avrebbe scatenato una moltitudine di dibattiti e speculazioni. Catturato un enorme dirigibile apparentemente sospeso sulla città di Huntington, West Virginia. Ciò che è veramente sconcertante, tuttavia, è che la costruzione del dirigibile sembra piuttosto avanzata per l'epoca, e la sua esistenza non è confermata da nessun documento diverso da questa fotografia. Il dirigibile nell'immagine ha una forma aerodinamica, eliche multiple e sembra essere in grado di trasportare un numero significativo di passeggeri, il che differisce notevolmente dai dirigibili primitivi e dai palloni a bassa capacità ampiamente utilizzati, all'inizio del ventesimo secolo. Inoltre, precede di diversi anni la creazione del primo dirigibile di tipo Zeppelin negli Stati Uniti. Numerose sono le teorie che cercano di spiegare questa immagine. Alcuni credono che si tratti di un'invenzione high-tech di un inventore sconosciuto e di talento che era chiaramente in anticipo sui tempi. Altri suggeriscono che si tratti di una bufala o di una configurazione anticipata di Photoshop. Tuttavia, nella fotografia non sono stati trovati segni di falsificazione e l'identità del fotografo e le sue motivazioni rimangono sconosciute. Nonostante tutte le speculazioni, la fotografia del dirigibile del 1911 rimane una scoperta storica che sfugge a una semplice spiegazione. Rappresenta un allettante indizio per un mistero ancora da risolvere e un'affascinante escursione nella storia dello sviluppo dell'aviazione. Numero 8 Il mostro di Loch Ness Quista foto spettrale del famoso mostro di Loch in Scozia ha alimentato un mistero che ha sconcertato le persone per quasi mille anni. Nel corso degli anni ci sono stati oltre mille incontri con essi e sono registrati in un registro ufficiale degli avvistamenti. La prima notizia risale all'anno 565 di Gigi, quando un santo del Giglio avrebbe salvato un uomo dall'attacco di un mostro fluviale. Le voci si intensificarono negli anni 30 quando sull'inverne scuri era parve un riferimento a un mostro di Loch Ness. Un uomo giurò di aver visto una creatura senza arti lunga 25 piedi attraversare la strada davanti a lui e sua moglie. Sebbene molti avvistamenti di mostri siano stati sfatati come racconti immaginari, la leggenda persiste ancora. Da allora, le storie del mostro sono cresciute e si sono sviluppate, compresse immagini fantastiche che sembrano bestie ispirate a Harry Potter o Draghi da favola. Recentemente, il ricercatore Neil Gimmel ha utilizzato la storia del mostro come esca per il suo progetto di ricerca. Ha annunciato che una gigantesca creatura acquatica potrebbe essere responsabile di queste speculazioni. Alcuni esperti ritengono che si tratti di un'anguilla gigante, altri pensano che sia una specie sconosciuta. Nonostante ci siano avvistamenti e testimonianze, non esistono prove conclusive che confermino l'esistenza di questo presunto mostro fluviale. Incertezza e mistero continuano ad alimentare il dibattito sulla sua esistenza. Numero 9. Dischi a goccia. Sotto le montagne Bayan Karola, che attraversano la Cina e il Tibet, si trova un labirinto di grotte misteriosamente interconnesse. La sua origine è sconosciuta e gli scienziati non sono sicuri se si tratti di una formazione artificiale o naturale. I ricercatori hanno trovato all'interno di queste grotte i corpi sepolti di alcune delle specie umane più insolite. Mai trovate. Queste grotte furono scoperte casualmente da un gruppo di archeologi nel 1938. Inizialmente pensavano di aver trovato resti di scimmie. Tuttavia è risaputo che le scimmie non seppelliscono i propri morti. Quindi a quale creatura appartenevano quegli strani scheletri? I confronti hanno dimostrato che non erano né umani né animali, almeno non completamente umani. Lo scheletro aveva arti piccoli e gambe molto sottili, ma rispetto alla loro struttura corta e debole, queste creature avevano teste molto grandi. Un archeologo cinese e la sua squadra stavano ispezionando gli scheletri quando trovarono qualcosa di ancora più strano. Un disco circolare semissepolto nel pavimento della grotta. Il disco era di pietra, ma aveva un foro al centro. Sul disco c'erano iscrizioni e attorno ad esso una scanalatura spirale con due anelli. Dopo un esame più attento, si scoprì che queste iscrizioni sembravano essere un qualche tipo di geroglifico. Tuttavia, questa lingua insolita non è riconosciuta da nessuno e nemmeno gli esperti di scrittura antica sono riusciti a tradurla. Un'altra scoperta interessante sono gli intagli sulle pareti raffiguranti il sole, la luna e le stelle collegati tra loro da piccole linee tratteggiate. Questa scoperta solleva una domanda. Queste creature stanno cercando di comunicare con noi? Ci sono voluti venti anni perché qualcuno traducesse le iscrizioni di questo album. Il medico annunciò di aver decifrato questi segni come una storia, ma ciò che scoprì fu così scioccante che le autorità si rifiutarono di permettergli di condividere la sua scoperta con il mondo. Secondo il medico sono stati recuperati più di 700 di questi dischi. Secondo lui raccontano la storia di una sonda spaziale arrivata sulla Terra da un altro pianeta e precipitata in questa regione. Presumibilmente gli abitanti della nave provenivano da una civiltà avanzata con intenzioni pacifiche. Tuttavia, i loro vicini più ostili resero difficile la convivenza e dovettero fuggire su altri mondi. La traduzione del dottore è stata nascosta in modo che i cittadini della Terra non sapessero che in alcune parti dell'universo esistono forme di vita che non abbiamo ancora esplorato. Numero 10. Stonehenge. Un monumento neolitico nel Regno Unito ha incuriosito nel corso dei secoli. Immaginate enormi pietre alte 4 metri del peso sbalorditivo di 25 tonnellate ciascuna che formano un grande cerchio nella pianura di Salisbury. All'interno, un anello più piccolo abbraccia due pietre verticali unite da un architrave orizzontale. Stonehenge ha anche uno straordinario allineamento astronomico con l'alba durante il solstizio d'estate. La sua origine e la sua costruzione, con una tecnologia primitiva, rimangono misteri. Si ritiene che le pietre siano state collocate nel sito intorno al 2400 anno corrente al 2200 anno corrente, ma il modo in cui furono trasportati e sollevati rimane enigmatico. Stonehenge fu probabilmente utilizzato come luogo di sepoltura a partire dal 3000 anno corrente, sebbene il suo scopo esatto rimanga irrisolto. Nonostante tutti i progressi scientifici degli ultimi decenni, i ricercatori di tutto il mondo continuano ad affrontare enigmi irrisolvibili. In questo video presentiamo 10 oggetti misteriosi che hanno tenuto impegnati gli scienziati fino ad oggi e hanno creato numerose leggende. Ti piacciono le cose misteriose e le scoperte incredibili? Quindi, dacci un pollice in su e iscriviti. Iniziamo! Numero 1. Le misteriose sculture rupestri dell'App Store. All'età di 30 anni fu colpito da un grave ictus che lo lasciò sordo e muto e paralizzato in metà del corpo. Per riprendersi da questo duro colpo, si ritirò sulle scogliere di Rosenberg per condurre vita da eremita. Ignorando le limitazioni fisiche causate dall'ictus, iniziò a scolpire nella roccia centinaia di volti e figure affascinanti e grottesche a partire dal 1870. Per realizzarle, circa 300 sculture rupestri, l'artista si ispirò a varie leggende e miti di pirati e pescatori locali. Le scene rappresentano principalmente la vita della famiglia Rotannouf, una famiglia di pescatori vissuta tra il XV e il XVIII secolo. In particolare l'elevato numero di sculture e la loro grande attenzione ai dettagli continuano ad occupare gli studiosi ancora oggi. La questione ancora irrisolta è come Epifano, con i suoi limiti fisici, abbia potuto svolgere per decenni un lavoro così pesante. Numero 2. Combeiano una città in anticipo sui tempi, Cavin de Huantara è senza dubbio una delle attrazioni più famose del Peru. Questo antico sito, situato a 20 chilometri a sud di Cajamarca, fu costruito tra il 1500 e il 1000 acquistare, secondo gli storici. La stella segreta del sito è un acquedotto che illustra in modo impressionante che il sito è stato costruito da un popolo molto in anticipo sui tempi. In confronto, i primi acquedotti romani videro la luce solo nel 312 anno corrente. A Cavin, il percorso dell'acquedotto era dotato di gradini scolpiti nella pietra. Innovativo è anche il sito antico, che comprende estesi canali che venivano utilizzati per trasportare l'acqua dagli altipiani alle valli sottostanti, una tecnologia vitale per la sopravvivenza, soprattutto in tempi di scarsità d'acqua. Cumbe Maio, era circondato da enormi pilastri di pietra modellati dal vento e dalla pioggia nel corso dei secoli. Numero 3. La chiesa sotterranea di Saint-Jean. La nostra prossima emozionante storia ci porta in Francia, più precisamente nell'idilliaca cittadina di Odon. Ecco la chiesa monolitica sotterranea di San Giovanni, scolpita nella pietra, che delizia storici e turisti. Secondo quanto scoperto dagli studiosi, la chiesa era originariamente destinata ad ospitare preziosi oggetti religiosi che venivano custoditi in un reliquiario e protetti dai ladri. Nei secoli successivi, la chiesa Saint-Jean fu utilizzata anche come cimitero. Alcune fonti storiche suggeriscono che gli operai che scolpirono la chiesa direttamente nella roccia calcarea furono, ispirati dal ritorno dei crociati che riportarono storie di, templi sotterranei e camere del tesoro. Sebbene il fonte battesimale al centro della chiesa sia stato probabilmente progettato tra il IV e il IX secolo, è possibile che la chiesa abbia ricevuto la sua forma definitiva solo nel XII secolo. Numero 4. La Torre della Fanciulla in Azerbaijan. Gli abitanti del Medioevo avevano costruito strutture interessanti nella capitale Baku. La cosiddetta Torre della Fanciulla si trova nel centro storico della metropoli, risale al XII secolo e, insieme al Palazzo del XV secolo, la Torre della Fanciulla forma un complesso di monumenti storici che è stato incluso nell'elenco nel 2001. All'interno della Torre si trova, tra le altre cose, un museo che racconta l'emozionante storia della capitale azzera, Baku. La Torre della Fanciulla è uno degli edifici nazionali più caratteristici dell'Azerbaijan ed è circondata da una moltitudine di leggende e miti profondamente radicati nella storia del paese. Basandosi su queste leggende, l'artista Zero creò nel 1940 il balletto Baku Made in S Tower, che è rimasto popolare nell'era moderna ed è una delle esportazioni culturali più conosciute dell'Azerbaijan. Numero 5. Montagna Yankan, una cava piena di segreti. Quando si parla di luodi culturali e storici, in questo video non può mancare l'antica Cina. Sul retro del Monte Yang, 20 chilometri a est di Nanchino, si trova la leggendaria Cava Yang. La sua origine risale al sovrano Shung, che fondò la dinastia Ming nel 1368 e proclamò Nanchino capitale del suo impero. Nei decenni successivi, la cava di Yang Chang divenne la principale fonte di reddito dell'impero e fornì il materiale per giganteschi progetti di costruzione che cambiarono per sempre il volto di Nanchino. In particolare, il gigantesco mausoleo commissionato nel 1405 e mai completato continua ancora oggi ad affascinare i ricercatori cinesi. Tuttavia, la cava è circondata anche da oscure leggende. Ad esempio, la gente del posto dice ancora oggi che i lavoratori che non producevano la quota giornaliera di ghiaia di almeno 33 gradi di lucentezza venivano giustiziati sul posto, un mito che ha portato a chiamare un villaggio vicino tu, che significa tumulo. Numero 6. Le rovine storiche di Pumapungo, Bolivia, è anche conosciuta per le sue storie emozionanti. Vicino a Tiwanaku, nella parte occidentale del paese, ad esempio, si trova Pumapungo, un tumulo artificiale a forma di T che gli storici dicono sia stato costruito intorno al 536 di C. Secondo le credenze Inca, Tiwanaku è un luogo mistico dove si dice abbia avuto origine il mondo moderno. Per questo motivo i ricercatori boliviani stanno studiando meticolosamente le rovine di Pumapungo. Ma Pumapungo gioca un ruolo importante anche nella credenza popolare. Qui svetta una parete di sei misteriosi monoliti la cui origine e scopo non sono ancora chiari. E poi ci sono i misteriosi blocchi di pietra tagliati nella roccia a forma di H e che, secondo la credenza popolare, sono legati agli dei Inca. C'è qualcosa di vero in queste storie? Chi lo sa? Numero 7. Tiwanaku, la porta del sole. Restiamo un po' in Bolivia e viaggiamo vicino al famoso fiume Titicaca. Qui è stato scoperto un antico insediamento di circa 4 chilometri quadrati che, secondo gli storici, raggiunse il suo massimo splendore intorno all'anno 800 dc. Tra 10.000 e 20.000 abitanti. Sono stati rinvenuti numerosi oggetti di rilevanza storica, come strutture monumentali, ceramiche decorate e blocchi megalitici. Mentre gli oggetti furono rapidamente assegnati a un popolo vissuto più di 1200 anni fa, il monolite chiamato Puerta del Sol continua ancora oggi a suscitare speculazioni. Di cosa si tratta nel dettaglio probabilmente rimarrebbe per sempre inspiegabile, dal momento che gli storici, nonostante tutte le ricerche, non hanno scoperto alcun indizio concreto sul significato e sullo scopo del monolite. Nella credenza popolare boliviana, la Puerta del Sol è considerata un luogo mistico che collega il mondo degli umani con quello degli dèi. Numero 8. La tomba di Assalonne. Antico monumento dell'Isecolo, è uno dei monumenti più antichi sopravvissuti. Si tratta della tomba di Assalonne, situata nella valle del Cedron, vicino a Gerusalemme, e risale all'Isecolo.Nel corso dei secoli, la tomba ha ricevuto diversi nomi, come tomba di Ezechia, torre di Giosafato o casa del Faraone. Secondo i ricercatori, la tomba appartiene ad una nobile famiglia ebrea dell'epoca dei due templi, di cui non è stato determinato il nome. Il monumento mistico comprende una tomba sotterranea scavata nella roccia a cui si accede tramite scale. Secondo la leggenda la tomba venne utilizzata per esprimere il rifiuto della disobbedienza di Absalom. Secondo la storia ebraica, Absalom si ribellò al governo di suo padre e fu ucciso durante una rivolta. Tuttavia, questi resoconti non sono storicamente verificati. Numero 9, il vaso di Licurgo, splendida arte dell'antica Roma. Agli antichi romani vengono attribuite numerose conquiste e invenzioni con cui il vasto impero fece avanzare, la civiltà, ma i romani avevano una predilezione per l'arte anche nella vita privata, cosa particolarmente evidente nel vaso di Licurgo. Questo è un recipiente per bere in vetro di Craico. A seconda del lato in cui la luce colpisce le pareti di vetro del vetro, brilla in un colore diverso. Se illuminato frontalmente si illumina di rosso. Se invece la luce colpisce da dietro si illumina di verde. Gli scienziati hanno scoperto che questo effetto si ottiene arricchendo il vetro con minuscole nanoparticelle d'oro e, d'argento. Ma nonostante tutte le indagini approfondite sul materiale non è stato possibile determinarne l'esatta composizione, un motivo in più per apprezzare e preservare questi occhiali misteriosi. Numero 10. Una visione dell'India, le statue e i monumenti di Varangal. Per migliaia di anni, la lontana India ha affascinato le persone con la sua storia emozionante e la sua cultura variegata, che ha dato origine a numerosi monumenti impressionanti. Tra questi c'è la misteriosa collina Gopakal, che è uno dei monumenti già inscavati nella roccia più grandi e importanti del paese. Popolarmente conosciuto come Ex Bazar Kibabadi, il luogo è associato a diverse divinità hindù. Secondo le leggende, gli dei sarebbero intervenuti nella creazione delle statue alte fino a 18 metri che circondano la collina Gopakal, alcune delle quali risalgono al VI secolo, epoca in cui le possibilità tecniche delle persone erano limitate. Allora come è possibile che tumuli e statue così impressionanti siano stati scolpiti nella roccia? Con l'aiuto divino, almeno finora, non esiste una spiegazione scientifica. Un totale di 10 oggetti misteriosi ci hanno portato in giro per il mondo in questo video. Quale storia ti è piaciuta di più e conosci qualche oggetto o tecnologia che oggi rimane inspiegabile? Lasciaci le tue opinioni nella casella dei commenti. Fino alla prossima volta!